idea più eversiva che darwin e che in generale gli evoluzionisti abbiano mai proposto e dove c'è l'imperfezione che c'è la storia e dove c'è l'imperfezione che c'è il cambiamento che c'è la sorpresa che c'è una specie intelligente come la nostra che si fa domande sul cosmo dove c'è perfezione non c'è storia dove ci sono invece stranezze imperfezioni lì sì che sta succedendo qualcosa di che è un messaggio rivoluzionario quello che veramente conta nell'evoluzione è una cosa sola è la diversità individuale se noi eliminiamo dalla nostra testa i criteri di perfezione ci accorgiamo della diversità di ognuno nelle sue imperfezioni le sue fragilità nella sua vulnerabilità ma sta proprio lì in quelle vulnerabilità in quella fragilità il motore del cambiamento noi evoluzionisti non abbiamo ancora capito perché esistono i maschi in natura le femmine in natura possono fare tutto da sole il cervello è un bricolage è il frutto di un continuo rimaneggiamento evolutivo noi siamo dei castori andati fuori controllo e oggi sappiamo che gli uccelli nascono da tre linee di dinosauri distinte quindi i dinosauri sono ancora tra di noi e si chiamano uccelli imperfezione è un modo per me per condividere proprio quello che faccio veramente come ricerca anche quindi l'evoluzione perché imperfezione perché è un modo molto profondo secondo me è inaspettato per fare capire in modo semplice come funziona il processo evolutivo e per sfatare anche un po di miti che noi abbiamo su sull'evoluzione e in particolare su certe idee di natura che noi ci siamo messi in testa quindi vi ho portato un sacco di storie per il mio elogio dell'imperfezione beh la prima cosa che tra l'altro ho scoperto dopo aver pubblicato il libro quindi non l'ho trovata nel libro è che i due grandi padri della scienza moderna uno per la fisica e l'altro per la biologia chi sono Galileo e Darwin tutti e due hanno sostenuto il valore fondamentale dell'imperfezione questa è una pagina meravigliosa del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo rileggetelo se non se non l'avete mai letto leggetelo a un capolavoro Italo Calvino disse che era il modello della prosa in italiano il campione della prosa italiana tratta una cosa bellissima che l'uomo che ci ha restituito che ci ha dato l'idea di metodo sperimentale decide di raccontare la sua rivoluzione la rivoluzione copernicana non attraverso un testo tecnico un paper scientifico diremmo noi oggi ma attraverso un'opera di teatro lo fa con il teatro perché il dialogo sopra i massimi sistemi è un'opera teatrale molto bella questa cosa che la rivoluzione scientifica nasce a teatro teoria e teatro nascono dalla radice greca che vuol dire vedere vuol dire osservare e vuol dire anche stupirsi di quello che si osserva e questo vale per una teoria scientifica e anche per un'opera teatrale che si va a vedere il teatro anatomico a Padova dove è nata l'anatomia moderna è appunto un teatro no le operazioni chirurgiche si fanno nel teatro settore nel teatro chirurgico quindi il teatro bene in questo prima giornata Galileo dice una cosa bellissima fa dire a uno dei suoi personaggi sagredo questo dice ce l'ha con aristotele ovviamente quindi con l'idea che il nostro sia un mondo imperfetto e che più ci si allontana dalla terra mondo lunare sovralunare no i pianeti il sole telefisse ovviamente per aristotele con la terra al centro si raggiungono gradi crescenti di perfezione e allora Galileo dice ma perché tutta sta perfezione in realtà su questo fragile corpo celeste che è la terra ci sono state vedete ammirabili e diverse alterazioni mutazioni generazioni che incessantemente si fanno cioè è dove c'è l'imperfezione che c'è la storia e dove c'è l'imperfezione che c'è il cambiamento che c'è la sorpresa che c'è una specie intelligente come la nostra che si fa domande sul cosmo e poi vedete che dice dove invece c'è perfezione e fa l'esempio del diamante dell'oro non cresce niente non c'è non succede niente è già successo tutto il che mi fa sospettare che un fabrizio de andrè aveva letto galileo oppure la famosa meraviglioso passo di di andrè che è sulle tame che crescono i fiori ma sul diamante non cresce niente e l'aveva già detto galileo quattro secoli prima è esattamente la stessa la stessa idea e questo è il padre della scienza moderna sul lato fisico se voi leggete darwin lo leggete veramente non come spesso ce lo insegnano in modo un po stereotipato darwin spiega che il mondo è pieno di cose inutili uccelli che hanno perso le ali non le usano più per niente fa cose ridondanti strutture sbagliate effetti collaterali e tratti vestigiali che una volta servivano a qualcosa poi non servono più niente il mondo dice darwin gronda di inutilità che uno dice ma scusa non è mica quello che ci ha insegnato che la selezione naturale no perfeziona gli organismi li plasma li modella e che ci si adatta sempre di più ci sta dicendo che il mondo è pieno di cose inutili cosa voleva dire in realtà è qualcosa di molto di molto rilevante di molto importante questo è un altro passo molto bello vedete lui dice dove c'è perfezione non c'è storia dove ci sono invece stranezze imperfezioni lì sì che sta succedendo qualcosa lo dice anche tra l'altro un suo giovane collega in una lettera molto bella questo giovane botanico americano dice senti maestro ma insegnami com'è che faccio a osservare a capire l'evoluzione nella natura e lui e darwin gli risponde semplice cerca e studia le cose imperfette lì c'è l'evoluzione che sta avvenendo e anche questo è importante questo è un primo punto su cui voglio ragionare con voi darwin dice una cosa che è molto importante anche per il dibattito attuale oggi lui dice state attenti perché la natura non è perfetta la natura non è una persona la natura non ha intenzioni non è né buona né cattiva è l'insieme delle relazioni vedete delle leggi dice delle regolarità che tengono insieme il mondo e noi ne siamo parte quindi guai a personificare la natura dice darwin non l'ha ascoltato nessuno questa cosa perché lo facciamo ancora oggi no quante volte nel dibattito pubblico sentite dire che è una cosa è naturale quindi è buona è naturale quindi è giusta perché è frutto di un processo evolutivo molto lungo darwin stesso che ci dice state attenti la natura non è come pandora nel film nel pianeta di avatar che è tutto no è una natura una visione edificante della natura natura piena di contraddizioni e qua arriviamo al punto che poi faccio vedere adesso con qualche esempio l'imperfezione per darwin vuol dire questo sostanzialmente che è un messaggio rivoluzionario questa è davvero la l'idea più eversiva che darwin e che in generale gli evoluzionisti abbiano mai proposto e c'è che quello che veramente conta nell'evoluzione è una cosa sola è la diversità individuale non è la diversità tra specie tra razze tra popolazioni tribù quello che conta nell'evoluzione è che non c'è un individuo proprio non c'è un insetto uguale a un altro vede dice darwin finalmente ci liberiamo della vana ricerca dell'essenza non scoperte non scopribile del termine specie le specie non hanno un'essenza sono solo delle collezioni di individui la specie umana che cos'è è un'unica grande popolazione di persone ognuna delle quali è portatrice di differenze uniche che non ha nessun altro e questo dice darwin è il motore di ogni cambiamento evolutivo questo ve lo dico perché in realtà tutto il mio discorso sull'imperfezione alla fine porta qui è la difesa di questa idea è se noi eliminiamo dalla nostra testa i criteri di perfezione ci accorgiamo di questo bellissimo messaggio della diversità di ognuno nelle sue imperfezioni nelle sue fragilità nella sua vulnerabilità ma sta proprio lì in quelle vulnerabilità in quella fragilità il motore del cambiamento no il combustibile del cambiamento ci dice darwin e allora con queste come dire chiavi di lettura in testa possiamo vedere qualche esempio quando voi alla televisione vedete un leopardo che caccia di so io lo dico a tutti gli autori di documentari ma non mi da retta nessuno forse quest'anno riusciamo a raccontare questa storia quest'estate a rai cioè fan sempre vedere il predatore che insegue la sua preda e quasi sempre la prende e se la mangia giusto e nessuno ricorda mai che questa cosa succede soltanto nel 5 per cento dei casi nel 95 per cento dei casi invece trovate il leopardo distrutto che si riposa su un ramo sfatto e digiuno questo nel 95 per cento dei casi ok perché se voi conoscete state lì fate le osservazioni veramente le misurate questo succede normalmente allora la strategia di caccia di questi felini meravigliosi è una strategia bellissima che ci piace ma perché la vediamo nel suo momento di successo di apice in realtà è un compromesso come tutto in natura è una strategia di caccia molto specializzata che vuol dire scaricare tutta l'energia in centocinquanta metri se riesce a beccare l'antilope in centocinquanta metri hai la cena se no no ok perché dopo centocinquanta metri questo animale non riesce più ad andare avanti quindi è un velocista ok quindi questa è la normalità d'accordo e così come quasi sempre le prede nella seconda maggioranza dei casi se la cavano ok oppure un altro esempio meraviglioso questo è un video bellissimo potete trovare anche online questa è una femmina dell'uccello lira australiano perplessa che osserva quella strana forma lì davanti che sarebbe un maschio che gli durano giorni e giorni queste cose a volte il maschio muore di sfinimento fisico per questa cosa ovviamente il primo predatore che passa se lo mangia perché è distrutto cioè non riesce neanche più a correre ora che senso ha una cosa del genere sarà mica perfezione questa perché non è perfezione perché noi la guardiamo dal punto di vista del maschio che lo sapete no perché fa un rituale di corteggiamento che ha la funzione di selezione sessuale si dice no adesso non voglio entrare in tutti i dettagli selezione sessuale vuol dire che i maschi competono tra di loro in natura non in modo violento necessariamente tipo scontri accornate per accedere all'arem di femmine in questo caso qui è una selezione diversa intersessuale si dice una selezione intersessuale vuol dire che il maschio compete cercando di farsi di sedurre le femmine di farsi scegliere dalle femmine qualche volta barano a dire la verità perché per esempio c'è un altro uccello lira australiano che anziché fare questo corteggiamento fa dei giardini bellissimi per sedurre le femmine quindi tu vedi questo maschio che il pomeriggio comincia a prendere un pezzettino di foresta e comincia a portarli le cosine fa tipo giardino giapponese avete presente con colori diversi e ci sono tanti giardini e vedi le femmine che passano davanti osservano il giardino e dicono ah non male questo e alla fine scelgono uno un maschio o l'altro e si è scoperto che nottetempo certi maschi partono e vanno nel giardino del maschio vicino e glielo disordinano tutto quindi in realtà c'è competizione anche tra i maschi anche in questo caso allora perché questo è un altro esempio di imperfezione perché è un esempio di quello che noi nell'evoluzione chiamiamo trade off cioè compromesso cosa vuol dire compromesso vuol dire che il maschio qua cerca un compromesso tra la selezione sessuale che deve farsi scegliere dalle femmine per riprodursi e trasmettere i suoi geni alla discendenza e la selezione naturale cioè rischia la pelle rischia la vita rischia quindi di non trasmettere nessun gene perché viene mangiato da qualcuno o per sfinimento quindi questa è una strategia imperfetta è un appunto un compromesso tra spinte selettive questa è una parentesi per i maschi presenti perché ci tengo sempre a ricordarlo noi evoluzionisti non abbiamo ancora capito perché esistono i maschi in natura ok perché no sembra uno scherzo ma è così perché i maschi non servono nel senso che le femmine in natura possono fare tutto da sole volendo si possono auto fecondare possono fare partenogenesi possono fare coppia tra di loro e far crescere l'uovo fecondato da un maschio di passaggio come fanno certi albatross meravigliosi alle hawaii sono loro che scelgono quindi resta il mistero del perché esistono i maschi forse l'ipotesi è che il maschio che è il sesso ancillare in biologia non è il sesso secondario il maschio serve perché così mescola i suoi geni con quelli della femmina e nasce una prole con gli individui tutti diversi tra di loro geneticamente questa è una protezione contro le malattie contro batteri e virus non è molto edificante questa cosa perché in pratica vuol dire che noi maschi siamo un vaccino praticamente naturale siamo serviti come difesa contro i virus e batteri senza i virus e batteri non ci saremmo noi maschietti ok questo ditelo a tutti quelli pieni di testosterone in giro ora veniamo adesso vi faccio vedere come si genera tutta questa imperfezione faccio qualche esempio ma semplice in questo viaggio nell'evoluzione allora uno dei meccanismi che generano imperfezione è questo che vedete l'esempio classico il panda ma potrei farvi tanti altri esempi qui non è tanto un compromesso quanto un organismo estremamente imperfetto che deriva da cosa dal fatto che è un rimaneggiamento è una sorta di organismo che si è dovuto riorganizzare completamente facendo di necessità virtù la storia è molto semplice il panda è un orso ok fa parte del gruppo degli orsidi e quindi come ogni orside dovrebbe essere sostanzialmente onnivoro ok quindi una dieta piuttosto flessibile invece i panda hanno avuto una storia molto particolare tre milioni di anni fa quindi neanche tanto tempo fa hanno avuto la necessità adattativa di restringere fortemente la loro dieta sono diventati vegani praticamente ma vegani proprio stretti perché mangiano solo bambù mangiano solo alcune parti del bambù e soltanto di alcune specie di bambù quindi la dieta una delle diete più specializzate che conosciamo che tra l'altro non è mai una buona idea nell'evoluzione se ti specializzi troppo come diceva il mio maestro negli stati uniti sei sempre il primo in cima alla lista della prossima estinzione perché ovviamente se sei molto specializzato il primo cambiamento ambientale sei tu che ne fai le spese no mentre chi è generalista è flessibile e ha una dieta diversificata ha più chance di cavarsela parentesi chi è adesso la specie sulla terra più specializzata al clima che abbiamo avuto negli ultimi 12 millenni noi e cosa stiamo facendo stiamo cambiando il clima intelligentissimo giusto come strategia adattativa chiusa la parentesi il panda ce l'ha fatta altrimenti non sarebbe qui è in via di estinzione per colpa nostra ovviamente però qualcuno scherzosamente dice che un po ce l'ha anche cercata nel senso che poverino è veramente un compromesso adattativo formidabile perché per esempio ha una microfauna nel suo intestino nel suo sistema digerente che gli permette di digerire la clorofilla digerire il bambù e ha tutta una serie di altri rimaneggiamenti tra i quali questo bellissimo che vedete qua perché ovviamente è un orside e quindi è un plantigradi e come tutti i plantigradi c'ha le belle zampe piatte come fa un orso ad afferrare il bambù non ce la fa a mangiarlo e allora cosa si è inventato nel corso dell'evoluzione il panda si è inventato un sesto dito che si chiama falso pollice che cresce praticamente sotto il pollice vero e parte dal sesamoide radiale che questo piccolo ossicino che abbiamo tutti qui sotto il pollice nel caso del panda è ipertrofizzato un po più allungato e da origine a questo falso dito sesto quindi il panda ha sei dita e tra il pollice e il sesto dito fa passare il bambù se andate allo zolo prossima volta fateci caso lo mette tra queste due dita e se lo porta alla bocca e poi poverino deve mangiare tutto il giorno perché ovviamente l'apporto di calorie del bambù è molto più basso della dieta originaria degli orsi quindi mangia tutto il giorno ha dovuto ridurre drasticamente i movimenti perché deve anche consumare pochissimo una vita d'inferno praticamente ok quindi fare piano fa una gran fatica a riprodursi consumare poca energia mangiare tutto il giorno una cosa interessante qui adesso non ho l'immagine ma che vi fa capire bene anche qui un altro punto importante dell'evoluzione siccome i geni che presiedono allo sviluppo delle dita che sono bellissimi sono i geni cosiddetti ox quelli che proprio noi li chiamiamo gli architetti dell'organismo perché sono proprio quelli che fanno le simmetrie gli arti testa coda quelli che proprio fanno proprio l'architettura dell'organismo lo stesso gene che fa le dita degli arti superiori le fa anche di quelli inferiori e quindi il panda c'ha sei dita anche nei piedi che non gli serve a niente ok cos'è il sesto dita nel piede del panda niente è una ridondanza ci tornerò tra poco perché questa è un'idea importante allora questo principio che vi ho appena raccontato ha un nome si chiama Exaptation ma non è importante Darwin l'aveva già capito e in questo passo bellissimo di questo capolavoro di Darwin che nessuno legge mai ma è molto molto bello che è quel libro sulle orchidee di Darwin lo trovate anche in italiano è delizioso sono tanta pagine nelle quali Darwin racconta la vita delle orchidee come fanno le orchidee a ingannare gli insetti perché sapete che ci sono orchidee che si fanno impollinare da certi insetti e gliene fanno di tutti i colori c'è l'orchidea il cui fiore è esattamente uguale al dorso di una femmina e emana il calore della femmina di quell'insetto scusate emana l'odore della femmina di quell'insetto quando è in calore quando ha l'estro e allora il maschio dell'insetto arriva perché pensa di copulare con una femmina invece è un fiore di orchidea ok fantastico le altre orchidee simulano perfettamente l'odore di putrefazione dei corpi perché attraggono gli insetti che amano i corpi in putrefazione eccetera eccetera quindi spiega tutte queste bellissime coevoluzioni e vedete che conclude il libro dicendo ve lo traduco se ho capito bene nell'evoluzione praticamente tutti i tratti che io studio sono nati per certe funzioni e poi sono stati modificati riutilizzati per fare tutt'altro la natura è bricolage potremmo dire è il continuo riutilizzo di vecchie strutture per nuove funzioni e se è così ovviamente il risultato non sarà mai perfetto perché se io faccio l'artigiano non sono come un ingegnere che parte da zero progetta la sua macchina e arriva al risultato un artigiano deve usare quello che c'è utilizza il materiale a disposizione che non è perfetto ha i suoi vincoli, ha i suoi limiti però fa di necessità di otto cioè in modo creativo, opportunista il materiale a disposizione diventa utile per nuove funzioni e poi sempre nuove funzioni così funziona l'evoluzione non è perfetta ma proprio per questo è estremamente creativa questi sono i due questo è il mio maestro Stephen Jay Gould con cui ho fatto il dottorato negli Stati Uniti e il suo collega Niles Eldridge è quello con cui poi ho lavorato tanto e che lavora anche adesso e poi appunto insieme abbiamo coniato questo termine adattamento per indicare il normale sviluppo di un tratto con la stessa funzione e invece quando la selezione naturale lo riutilizza più e più volte per nuove funzioni si chiama appunto Exaptation ci sono tantissimi casi il panda ci sono animali che sono interi Exaptation per esempio Littiosauro un esempio bellissimo il primo grande anticonformista della storia evolutiva perché ha fatto tutto il percorso per diventare rettile e poi è tornato in mare e tornando in mare cos'è? vedete che è ancora un rettile perché ha tutta una serie di strutture rettiliane dalla coda, le vertebre eccetera però vedete che si è riorganizzato con queste specie di pinne anteriori che non sono delle pinne ma sono degli arti adattati eccetera eccetera eppure è vissuto per centinaia di milioni di anni ed era un rimaneggiamento oppure l'aerone nero africano è un esempio di esattamento comportamentale che usa le ali per cacciare anziché oltre che per volare quindi fa un sistema molto bello perché fa questo cono d'ombra nell'acqua che permette per uno strano effetto di luce gli permette di vedere quando entrano i pesciolini dentro il cono d'ombra e lui se li mangia tutti e tra l'altro perché poi la natura è perfida abbiamo scoperto che poi in acqua ci sono anche i predatori di quegli stessi pesciolini che li spingono dentro il cono d'ombra e se li mangiano anche loro perché la natura sa essere perfida appunto qui la faccio veloce questa è la tassonomia che abbiamo inventato noi l'adattamento quando la funzione è sempre la stessa l'exaptation questo è il termine quando un carattere viene plasmato dalla selezione poi viene riutilizzato per qualcosa di nuovo e poi c'è questa terza categoria che è molto importante quella che noi chiamiamo i pennacchi i pennacchi è un termine architettonico qui non ce ne sono ma di solito nelle chiese ci sono e quando una cupola poggia sopra degli archi si sviluppano degli spazi triangolari quelli sono i pennacchi noi lo chiamiamo così perché sono degli spazi di risulta degli effetti collaterali che poi vengono utilizzati nell'evoluzione quindi delle strutture che non servono niente che non sono nate per nessuna funzione ma che poi si rivelano utili per l'evoluzione anche questo è importante quindi se noi vediamo la storia dei mammiferi e dinosauri a questo punto riusciamo a capirla un po' meglio i dinosauri erano i grandi dominatori della terra fino a 66 milioni di anni fa molto specializzati quasi tutti e quasi tutti estinti perché sono cambiate le regole del gioco c'è stato uno sconvolgimento ecologico su larga scala e loro che erano in cima alla catena alimentare ne hanno fatto le spese e sono estinti quasi tutti perché sapete che in realtà tre famiglie dato ultimo tre famiglie sono sopravvissute di dinosauri e sono diventate con tre linee separate gli uccelli noi oggi sappiamo che gli uccelli nascono da tre linee di dinosauri distinte quindi gli dinosauri sono ancora tra di noi e si chiamano uccelli perché non sappiamo bene come alcune di questi dinosauri soprattutto quelli piccoli che erano già col sangue tiepido sono riusciti a sopravvivere e noi chi eravamo? noi anche questo spiace dirlo ma tutti noi mammiferi a quel tempo eravamo dei topini grandi così quelli erano i nostri antenati i ratti del mesozoico noi siamo i ratti del mesozoico ok? un po' evoluti mica tanto qualche volta diciamo e sangue caldo vita notturna immagazzinavamo il cibo per lungo tempo semi e quindi ci siamo riusciti ad attraversare la lunga notte del Cretaceo come viene definita cioè l'impatto delle asteroide la catastrofe che c'è stata 66 milioni di anni fa sono sopravvissuti i più flessibili i più generalisti i più opportunisti non quelli perfettamente adattati al mondo precedente anche qui ogni riferimento a fatti e eventi contemporanei è puramente casuale nel senso che adesso noi siamo i dinosauri del momento ok? rischiamo di far la fine dei dinosauri del passato con l'aggravante che lo sappiamo e che invece i dinosauri per quanto ci risulta non è che sapessero che si stavano estinguendo alcuni di questi invece vedete questa è una bellissima ricostruzione avevano già le penne le piume colorate il sangue tiepido cacciavano in gruppo e avevano queste strutture proto-alari e sono diventati poi gli uccelli la faccio breve vi faccio solo qualche altro esempio e poi lascio la parola a voi noi umani siamo questo è un bellissimo articolo che è uscito su Science dieci anni fa che avrei voluto scriverlo io molto bello e dice vedete il corpo umano è un'enciclopedia di imperfezioni e sono sicuro che voi lo sapete perché tutti lo sappiamo perché mal di schiena piedi piatti ernie sciatiche sono tutte dovute al fatto che in modo del tutto imperfetto noi abbiamo una colonna vertebrale da quadrupede perché è ancora flessuosa non dovrebbe esserlo se tu hai una struttura in cui devi scaricare tutto il peso sulla verticale non ti conviene infatti fa due curve strane e l'attaccatura di nervi e muscoli è ancora quella di un quadrupede ecco perché si schiacciano le vertebre succedono disastri che ancora i medici fanno una gran fatica peraltro a curare perché è proprio una questione strutturale una questione biomeccanica poi in natura non esiste un animale che prende tutti gli organi vitali e li espone davanti senza nessuna difesa non esiste tutti gli animali prendono dove hanno gli organi vitali li proteggono in qualche modo noi invece abbiamo gli organi vitali tutti esposti davanti altro effetto altra imperfezione dovuta a questo e poi ce ne sono tantissime altre questa testa pesante che ciondola sopra un collo molto molto debole il nervo sopra la laryngeo qua non si vede che è pazzesco noi abbiamo un nervo che va ad innervare la laringe parte qui scende giù passa dietro il cuore torna su per il collo dall'altra parte e lì va la laringe ed era a tre centimetri di distanza e invece fa un viaggio lunghissimo non ha nessun senso perché fa un viaggio lunghissimo perché praticamente è un nervo molto antico che ha una storia evolutiva legata addirittura alle branchie dei pesci e quindi è rimasto è un vincolo noi siamo pieni di vincoli noi maschietti con la prostata sappiamo benissimo che non ha nessun senso che il canale dell'uretra passi proprio in mezzo alla prostata e purtroppo invece succede questo ci genera tutta una serie di effetti molto molto fastidiosi anche quello è un vincolo che non ha nessun senso l'elenco è lunghissimo non ultimo il doloroso e pericolosissimo parto umano che non ha equivalenti in natura nessun animale ha un parto così pericoloso e così doloroso e anche questo è tutto un compromesso dovuto al fatto che alzandoci in piedi come bipedi il bacino non può allargarsi più di tanto quindi il canale del parto ha un vincolo di allargamento che non hanno i quadrupedi la testa dei nostri cuccioli aumentava di volume si è triplicata e quindi questo è un grosso problema devi fare uscire una testa grande il triplo da un canale del parto che non può allargarsi e quindi cosa è successo è successo che la gravidanza si è accorciata un pochino è successo che la nostra testa il cervello dei nostri cuccioli si sviluppa per due terzi dopo la nascita anche questo non ha equivalente nessun altro cugino nostro nessun altro animale e però non è bastato perché comunque il parto umano ha portato fino a poco tempo fa in realtà ancora adesso in certe parti del mondo alla morte sia della mamma che del bambino in una percentuale che non ha equivalenti in altre forme viventi non funziona è un'imperfezione è un compromesso estremamente fragile di tanti cambiamenti evolutivi che ci sono stati però vi faccio notare anche qui è un'altra delle grandi ricchezze dell'imperfezione tutto questo rimaneggiamento del parto umano alla fine fa sì che i nostri bambini abbiano un cervello che per due terzi si sviluppa dopo la nascita e quindi è una spugna che impara che raccoglie le esperienze e che ha un'infanzia molto più prolungata praticamente questa imperfezione così dolorosa ha sprigionato alcune delle caratteristiche più belle più sorprendenti della mente umana e della specie umana quindi noi siamo così creativi grazie ai bambini noi siamo una scimmia bambina ok? ed è grazie a questa fragilità dell'essere bambini che siamo così creativi non in virtù dell'essere adulti poi sul bipedismo anche qua un po' come per i maschi noi ancora non sappiamo perché ci siamo alzati in piedi visto che gli scimpanzei se la cavano benissimo anche bipedi alla bisogna ok? e a scuola ci hanno insegnato che siamo diventati bipedi perché così si liberavano le mani e potevamo manipolare gli oggetti e fare le tecnologie in realtà noi manipoliamo oggetti e facciamo le tecnologie da ben prima che diventassimo completamente bipedi che ci crescesse il cervello quindi i conti non tornano siamo diventati bipedi prima di tutta una serie di conseguenze che si sono verificate dopo tant'è vero che oggi noi pensiamo che probabilmente il bipedismo è stato un adattamento termoregolativo cioè abbiamo dovuto ridurre il più possibile la superficie esposta al sole e raffreddare il corto infatti diventiamo bipedi perdiamo la pelliccia e si sviluppano le ghiandole sudoripere che non hanno gli scimpanzai come le nostre quindi probabilmente è stato anche lì un cambiamento dovuto a una ragione che poi ha portato a tutta una serie di conseguenze inaspettate e interessanti il cervello è un altro esempio l'abbiamo già detto la Rita Devi Montalcini diceva sempre una cosa molto bella diceva il cervello umano è un accrocco è come diceva prendere il motore di una Ferrari e metterlo sopra una 500 la carrozzeria freme non ce la fa e infatti la carrozzeria del cervello umano è estremamente fragile non deve mai surriscaldarsi più di tanto è molto dispendiosa dal punto di vista metabolico eccetera eccetera ma diceva la Montalcini è proprio in questa imperfezione che viene fuori Leonardo da Vinci e Shakespeare diceva la Montalcini e lei diceva il cervello più perfetto che io abbia mai studiato è quello delle formiche è piccolino fa tutto quello che deve fare come un robot ammaestrato perfettamente che raggiunge il suo obiettivo insieme a milioni di altre formiche diventano un super organismo fantastico quello è un robot perfetto quello è una struttura perfetta però diceva giustamente la Montalcini non si è mai visto venire fuori Shakespeare nelle formiche fino ad ora perché perché il segreto del cervello è proprio quello che vi ho detto prima cioè è una struttura ridondante dove un sacco di strutture quasi tutte sono nate per una certa funzione e poi sono state rimaneggiate e riutilizzate per tutt'altro per esempio io adesso sto parlando e sto usando delle aree sensomotorie che prima servivano a tutt'altro e che adesso io uso per parlare e voi per ascoltare e capire quello che sto dicendo è un rimaneggiamento plastico la plasticità del cervello è fondamentale questo è il grande premio Nobel François Jacob che in questo libro bellissimo il gioco dei possibili dice appunto vedete il cervello è un bricolage ok è il frutto di un continuo rimaneggiamento evolutivo con parti vecchie amigdala il fuso giriforme parti antiche umorali che stanno alla base delle nostre reazioni immediate che devono interagire con parti moderne la neocorteccia quella dell'astrazione del linguaggio del ragionamento ma non possono fare a meno l'una dell'altra devono trovare come purtroppo sappiamo degli imperfetti compromessi ogni volta questi sono solo altri esempi un gene che è stato riutilizzato per il cervello e appunto la grande domanda che noi ci facciamo come evoluzionisti è come fa per esempio un cervello umano a leggere e scrivere non ha senso perché non si è evoluto la lettura la scrittura sono un comportamento estremamente recente nella storia umana 5-6 mila anni poche centinaia di generazioni umane non è possibile che il nostro cervello abbia un preadattamento per leggere e scrivere quindi cosa fa riutilizza vecchie strutture che servivano a tutt'altro con le quali legge e scrive tra l'altro questa è la ragione per cui recentissimamente è stata finalmente approvata questa cosa su cui lavoravamo da tanto le persone i bambini per esempio i ragazzi che sono dislessici o discalculici una volta si diceva che era un disturbo di apprendimento in realtà finalmente abbiamo accettato la realtà evolutiva cioè il loro è il cervello originario non il nostro quindi non ha nessun senso dire che il loro è un disturbo di apprendimento tant'è vero che oggi si parla di neurodiversità cioè il loro è un cervello diverso ed è un cervello legato alla struttura originaria del nostro modo di guardare il mondo di ragionare il nostro di chi sa leggere e scrivere ha sviluppato una plasticità che nel loro non c'è ma non è un disturbo è una neurodiversità e quindi questo discende proprio da questa concezione nuova evolutiva del cervello l'ultimo punto è una conseguenza bella di tutte queste storie che è il valore della ridondanza che è anche un po' più misterioso questo perché è un po' più difficile da capire ma il concetto è semplice noi lo sappiamo da sempre tutti i sistemi naturali più creativi più belli che ci sono in natura pensate a un ecosistema al cervello umano al DNA sono sistemi estremamente complessi molto creativi sono i più creativi quelli che hanno prodotto le più grandi innovazioni in natura sono tutti ridondanti cioè sono tutti sistemi in cui c'è molto più di quello che apparentemente serve e un ingegnere non li progetterebbe mai così perché devo fare una struttura che deve fare certe cose e soltanto il 10% fa quelle cose il 90% ridondanza come è possibile che sia ridondanza adesso forse abbiamo capito un po' perché un po' perché ha ragione questo grandissimo genetista di Harvard Richard Lewontin che diceva appunto togliamoci dalla testa il fatto che ogni parte di questi sistemi svolga una funzione molte parti degli organismi sono semplicemente degli effetti di sviluppo senza nessuna senza nessuna funzione lui a lezione diceva sempre spiegatemi a cosa serve il mento spiegatemi a cosa servono le impronte digitali se non a individuare le persone ovviamente a posteriore a cosa serve il pizzetto che ti metti sul mento mi diceva sempre niente è un elemento estetico su qualcosa di inutile ok quindi lo sappiamo questo nel DNA in particolare questa ridondanza assume delle dimensioni sorprendenti che ancora oggi facciamo fatica a spiegare perché la cipolla nobile pianta bulbosa ha quattro volte il DNA umano cioè non ha senso se noi pensiamo che il DNA sia proporzionale alla complessità di un organismo quindi tanti geni tanta complessità la cipolla adesso con tutto il rispetto per la cipolla ma non è che ha bisogno di quattro volte i geni che fanno un essere umano eppure è così perché? per una ragione contingente perché nelle piante come queste ma anche il frumento ha un genoma gigantesco le piante nascono per ibridazione e quindi quando nasce una nuova specie spesso nasce per fusione dei genomi delle specie paterne delle specie parentali e quindi sono genomi giganteschi ma una minima parte di quel DNA serve veramente per codificare i geni di quella pianta ridondanza pazzesca fortissima questo è un grande genetista che sta mappando il genoma umano e non solo vedete dice io più bici ha dentro è più che ed è una giungla cioè mi ci sto perdendo dentro non ci si capisce niente perché ci sono geni sparsi qua e là in mezzo a un rumore di fondo galleggiano in mezzo a sequenze ripetute che non sappiamo cosa diavolo facciano perché è così forse perché certo noi l'abbiamo sempre chiamato DNA ridondante ma in realtà forse serve a qualcosa è una funzione che non conosciamo può darsi ma può anche essere che spesso noi sovrastimiamo l'ordine che c'è in natura questo è un difetto che abbiamo tutti noi esseri umani che è stato studiato più volte se vi faccio vedere queste immagini voi vedete dei volti questo è Darwin proprio fantastico in realtà è una nuvola che casualmente con l'effetto dell'ombra assomiglia a Charles Darwin o al famoso volto di Marte e così via questa si chiama apofenia ed è una caratteristica tipica della mente umana che tende a trovare una regolarità una struttura riconoscibile dove non c'è e noi spesso facciamo questo errore anche quando parliamo di DNA e invece oggi sappiamo che il DNA è veramente ridondante il DNA veramente ha dentro un sacco di cose che apparentemente o realmente non servono a niente lo ha detto benissimo Sidney Brenner premio Nobel per la biologia per la medicina un grandissimo genetista che dice in questa citazione molto bella dice appunto il DNA è barocco c'è dentro un sacco di spazzatura una parte di questa spazzatura dà fastidio puzza e quindi viene buttata via l'altra però il junk tutto sommato se lo tiene ce lo teniamo e Sidney Brenner diceva sempre il DNA è come il garage di certi mariti inglesi pieno di mensole sbrecciate di armadietti rotti e alla domanda della moglie ma perché il marito risponde perché non si sa mai ecco Brenner diceva il DNA è pieno di non si sa mai ok è pieno di strutture che non servono più a niente o che non sono mai servite a niente ma che non vengono buttate via e cosa abbiamo scoperto pochi mesi fa praticamente questo è un pezzo di natural bellissimo e abbiamo scoperto questa cosa bellissima adesso lasciate stare difficile ma ve la spiego in modo semplice abbiamo scoperto che i geni nuovi i geni che nell'evoluzione compaiono tra l'altro sta per uscire due pagine che facciamo con Beppe Remuzzi sul Corriere della Sera proprio su questo tema geni nuovi che fanno cose importanti nuove per esempio lo sviluppo del cervello negli esseri umani sono nati dalla spazzatura cioè sono nati prendendo dei pezzetti che stavano nella parte non codificante del DNA che fluttuavano sono stati presi messi insieme ricombinati e sono diventati dei geni nuovi quindi vedete a cosa serve la ridondanza la ridondanza serve come riserva di cambiamento come magazzino al quale attingere quando devi cambiare e quindi la ridondanza per quanto imperfetta costosa apparentemente inutile te la devi portare dietro come il garage pieno di pacottiglia ma in realtà quando poi c'è un cambiamento ambientale c'è una grande innovazione dov'è che andiamo a prenderla dalla spazzatura dalla cosiddetta spazzatura quindi vedete il ruolo dell'imperfezione proprio come elemento di creatività nell'evoluzione e come vi ho detto se voi prendete tutti i sistemi più complessi in natura sono tutti sistemi fortemente ridondanti l'ultimo punto che voglio raccontarvi è riguarda un po' noi ed è un'altra ragione di imperfezione quindi facciamo un po' il sommario l'imperfezione può venire fuori da compromessi tra spinte evolutive diverse il maschio che vi ho raccontato può essere un vincolo che ti porti dietro e te lo devi tenere e devi fare di necessità virtù il panda giusto? può essere la ridondanza che è costosa imperfetta ma poi ti serve quando cambiano le condizioni oppure può essere un'altra situazione ancora e questa è quella di cui abbiamo parlato anche altre volte per esempio parlando di pandemia quando è che noi siamo imperfetti anche? Noi siamo imperfetti quando il mondo attorno a noi cambia in modo troppo veloce rispetto a noi quando si dice nell'evoluzione c'è un jet lag evolutivo noi siamo rimasti indietro il mondo è andato troppo avanti e noi siamo imperfetti siamo un po' disadattati perché siamo disadattati perché ci portiamo dietro vecchi adattamenti di una volta ma il mondo è cambiato non abbiamo fatto in tempo a modificarli quindi abbiamo dei problemi questa è un'altra ragione fondamentale di imperfezione noi oggi sappiamo per esempio che l'obesità in parte pensate più del 30% come fattore è dovuta a un mismatch a un si dice a una a un mancazza corrispondenza di questo tipo perché il nostro sistema digerente il nostro sistema metabolico è ancora fermo a un adattamento antico in cui i cibi grassi e pieni di zuccheri cibi molto energetici erano estremamente rari ed era una gran fortuna incontrare un pasto così ricco non sapevi quando l'avresti incontrato la prossima volta e allora qual è l'adattamento migliore in queste condizioni l'immagazzinamento immediato quindi noi quando mangiamo qualcosa di grasso di molto zuccherato di molto calorico tendiamo a immagazzinarlo subito e questo è un buon adattamento in quelle condizioni invece se siamo circondati di fast food è un pessimo adattamento ovviamente diventa estremamente pericoloso questo è un esempio di mismatch ce ne sono tanti di mismatch e per spiegarlo si usa proprio la metafora della regina rossa che è un bellissimo passaggio di Lewis Carroll di Attraverso lo specchio il secondo libro di Alice nel Paese delle meraviglie questa è un'illustrazione una di quelle le prime e qui c'è la regina rossa vi ricordate che a un certo punto Alice vede la regina che corre affannata e dice ma cosa c'è da correre così tanto e la regina dice ma non vedi che il mondo attorno a noi si sta muovendo se vuoi sembrare ferma devi correre gli dice la regina e se vuoi spostarti cambiare casella nella scacchiera devi correre il doppio questa è una metafora molto bella che noi evoluzionisti usiamo sempre si chiama proprio modello della regina rossa e vuol dire che noi anche noi umani siamo immersi in un mondo che cambia e quindi dobbiamo stare attenti a non trovarci in ritardo rispetto a questo mondo per esempio cos'è l'arrivo di un nuovo agente patogeno è il mondo che cambia è arrivato un nuovo nemico e noi in quel caso lì eravamo impreparati giusto? un po' perché non ascoltavamo le previsioni degli scienziati come quelle che raccontavo io e un po' perché veramente non lo conoscevamo in quel caso lì la regina rossa è in ritardo rispetto al mondo che si muove e può essere molto doloroso come abbiamo visto tutti oppure e questo invece non ha molto senso può succedere che il mondo cambia perché noi lo cambiamo e quindi come il castoro che è un ingegnere ecosistemico adesso i castori sapete che sono tornati anche in Italia c'è una coppia felicemente insediatasi nel Tarvisio nei boschi del Tarvisio da sola nel senso che pensiamo che sia arrivata da sola mentre stranamente sono comparsi dei castori anche a Sansepolcro in Maremma dove è impossibile che siano arrivati da soli quindi qualcuno li ha messi e a me non dispiace neanche più di tanto anche se adesso viene definita specie invasiva che non ha molto senso quindi forse li abbatteranno tutti ma i castori fino agli inizi del Cinquecento abitavano tutta l'Italia quindi loro sono quelli autotoni più di noi comunque lasciamo stare la questione i castori sono tornati a fare le loro dighe e facendo le loro dighe cambiano il mondo creano uno specchio d'acqua ferma creano un ecosistema per altri organismi pensate che è stato dimostrato che nei fiumi in cui ci sono i castori c'è il terzo di biodiversità in più rispetto ai fiumi in cui non ci sono ecco perché tra l'altro è molto stupido adesso mettersi ad abbattere tutti i pochi che ci sono quindi sono dei generatori di diversità sono degli ingegneri ecosistemici perché dove c'è il castoro il fiume assume prende vari ecosistemi diversi quindi più biodiversità noi siamo dei castori andati fuori controllo nel senso che siamo dei castori che a forza di cambiare il mondo abbiamo cambiato le regole del clima la regolazione del pianeta stiamo cambiando le condizioni biologiche fisiche alle quali dobbiamo adattarci e adesso stiamo facendo una grande fatica questa è una ragione ulteriore di imperfezione che riguarda noi in particolare noi ci stiamo mettendo nei guai perché cambiando l'ambiente attorno a noi troppo velocemente adesso siamo una regina rossa in ritardo con l'aggravante che è la regina rossa stessa cioè noi ad aver cambiato il mondo capite? questa è una situazione inedita che noi però chiamiamo anche in questo caso regina rossa ed è proprio quello che beh questo è un po' difficile insomma noi vedete non è che ci adattiamo semplicemente all'ambiente ma modifichiamo l'ambiente e quindi quelle che vengono dopo di noi i nostri figli i nostri nipoti ereditano da noi i nostri geni le nostre idee la cultura ma ereditano anche i cambiamenti ecologici che noi introduciamo la prossima volta che sentite dire che i nostri figli sono nativi di una tecnologia o sono nativi del riscaldamento climatico vuol dire esattamente questo nativi vuol dire che loro sono nati e la loro mente si adatta a un contesto adattativo nuovo e quindi pensano diversamente chiudo soltanto con un paio di spunti anche un po' polemici perché insomma noi amiamo molto la perfezione quindi è chiaro che scrivere un libro sull'imperfezione è anche scrivere un libro per provare a mettere in discussione il conformismo questa tentazione sempre forte che abbiamo noi di guardare il mondo di dividerlo in essenze ideali questo è il paradigma della perfezione che ha un piccolo difetto discriminatorio che se voi guardate il mondo con degli standard di perfezione cosa succede? La diversità individuale cos'è? Sarà una maggiore o minore distanza da quel vostro parametro di perfezione quindi io dico sempre un po' provocatoriamente che la perfezione è sempre un po' razzista è sempre un po' discriminatoria perché rende la diversità individuale uno scarto da una norma da uno standard da un conformismo questo è un esempio terrificante che è uscito dieci anni fa adesso la cosa si è risolta ma abbiamo problemi da altre parti questi per esempio sono dei genetisti purtroppo all'università di Budapest in Ungheria che all'università quindi è un luogo istituzionale ti proponevano un test genetico in base al quale che era una truffa perché non si può fare non esiste scientificamente per dimostrare il fatto che per esempio un politico che voleva presentarsi alle elezioni faceva questo test genetico per dimostrare ai suoi lettori che nella sua ascendenza non c'erano impurità ebraiche o rom ok un test di purezza razziale la cosa ha suscitato ovviamente molto scalpore e poi è stato chiuso questo centro ma diciamo per esempio qui vedete c'è l'utilizzo ideologico di un presunto dato scientifico che non esiste perché nessuno può per una finalità altro che se di perfezione e allora ricordiamoci sempre questo ho ripescato questa mia slide che uso a lezione nel corso sull'evoluzione umana adesso capirete perché la uso perché se voi andate a guardare nel DNA europeo trovate solo imperfezioni per fortuna trovate solo impurità per fortuna perché la pastoria europea è fatta di continui flussi migratori quindi l'identità genetica di un italiano di uno spagnolo di un francese di un tedesco non esiste nel senso che è il frutto di un mix di DNA africano DNA medio orientale pochino che è arrivato 40.000 anni fa DNA asiatico e poi un po' di mescolamenti recenti quindi non esistono etnie europee ok quindi ricordiamolo certi ministri simpatici che parlano di sostituzione etnica non ha nessun senso non sanno di cosa stanno parlando per la ragione radicale che le etnie in Europa non possono esistere perché noi siamo tutti migranti recenti quindi siamo tutti il frutto di stratificazioni migratorie recenti quindi gli italiani non è un'identità biologica è un'identità culturale non trovate nessuna distinzione anche perché voglio ricordare appunto che per esempio noi fino a poche migliaia di anni fa eravamo tutti di colore come questo signore qua che è il sedar man fantastico che era un inglese a tutti gli effetti viveva nel Somerset ed era autottono del Somerset con questi meravigliosi occhi azzurri e questa pelle scura scura tutti gli europei fino a poche migliaia di anni fa erano come questo signore e i nostri nonni diretti erano come questo signore qua ok questo ricordatelo appunto a quelli che parlano di certe idee di purezza oggi della scimmia bambina vi ho già parlato queste sono le leggi dell'imperfezione di cui vi ho parlato vedete la regina rossa la cipolla il riuso i vincoli queste le trovate nel libro le descrivo ciascuna di queste voglio solo ricordarvi l'ultima che è questa della scimmia bambina il fatto che noi manteniamo a lungo i caratteri giovanili perché è quella che a me piace di più in assoluto ed è veramente un adattamento estremamente imperfetto guardate noi abbiamo una capacità cranica che cresce dopo la nascita del 60% degli scimpanzè nel nostro caso il 430% ci esplode letteralmente il cervello dopo che siamo nati nessun animale ha una caratteristica di questo tipo l'accrescimento della neocorteccia pazzesco il volume encefalico il prolungamento del periodo delle cure parentali tutto questo ha avuto un costo è stata un'imperfezione perché non ha senso nell'evoluzione soprattutto se hai dei predatori avere dei cuccioli così deboli così vulnerabili inermi per così tanto tempo quindi è costato tanto ed è stato possibile solo noi pensiamo perché già c'erano dei gruppi sociali che difendevano le famiglie che difendevano i genitori che difendevano i cuccioli quindi la selezione naturale era un po' rilassata e ha permesso questo lusso questa imperfezione meravigliosa che è il rimanere bambini il triplo rispetto alla media degli altri mammiferi pensate che anche i Neandertal che sono una specie veramente molto molto vicina a noi avevano un'infanzia un'adolescenza un po' più corte diventavano maturi adulti e maturi sessualmente due anni due anni e mezzo prima di noi quindi noi sapiens siamo i campioni del mondo di questa caratteristica l'infanzia che è un'imperfezione ma è un'imperfezione di grandissimo successo l'imperfezione nel senso che è un costo è un adattamento molto costoso vi lascio solo con un paio di citazioni meravigliose questo Italo Calvino che rilegge Galileo lui lo conosceva benissimo appunto come dicevo prima nelle città invisibili c'è questa città che fa dell'imperfezione della sporcizia il segno della creatività e questo lo trovate nelle città invisibili e questo appunto è Fabrizio di André e vi lascio soltanto con l'effetto dell'essere bambini che io ho trovato descritto in un modo geniale in questo metalogo in questo dialogo immaginario di Gregory Benson un grande antropologo negli anni 70 e 80 una volta conoscevo un ragazzino in Inghilterra che chiese a suo padre senti papà i padri sanno sempre più cose dei figli e il padre con sussiego che risponde sì certo hanno più esperienze hanno avuto più tempo per studiare poi il ragazzino ci pensa un po' su fa senti papà ma chi ha inventato la macchina a vapore è il padre James Watt il bambino ci pensa su ancora un po' e fa senti ma perché non l'ha inventato il padre di James Watt provate a rispondere a questa domanda è difficilissimo rispondere a questa domanda e su questo lascio a voi e vi saluto e vi ringrazio beh intanto vi racconto questa storia perché fa ridere ma è una cosa che fa anche un po' preoccupare perché nel libro Imperfezione che voi se avrete voglia e la bontà di leggerlo ci sono dei capitoli in cui parlo di certe cose tipo che la selezione naturale è cieca blind si dice così in inglese vuol dire che la selezione naturale come vi ho fatto vedere all'inizio non vede nel futuro non raggiunge mai un obiettivo non ha finalità è un meccanismo statistico di cernità e me l'ha fatta cambiare perché dire che la selezione naturale cieca è offensivo nei confronti delle persone ipovedenti e non ci volevo credere ma scusa ma sto parlando di selezione naturale è evidente che il contesto è diverso niente ho fatto cambiare poi nel capitolo dopo parlo di questa storia bellissima che certi animali nelle isole come gli elefanti gli ipopotami nelle isole diventano più piccoli e scientificamente sui manuali c'è scritto si chiama nanismo insulare guai è offensivo nei confronti delle persone di bassa statura e mi è toccato mi è toccato fare delle frasi tipo gli elefanti che progressivamente diminuiscono le loro dimensioni sulle isole ecco e volevo che mi spiegasse un po' meglio la teoria del collo di bottiglia cioè il fatto che praticamente tutti gli esseri viventi alla terra hanno una variabilità genetica molto molto limitata non ho ancora capito bene questo meccanismo grazie ottima domanda sì diciamo non tutti gli organismi viventi noi esseri umani in particolare noi esseri umani in particolare poi può succedere per molti altri organismi il collo di bottiglia è un meccanismo evolutivo diciamo che succede tante volte tutte le volte in cui tu hai una popolazione biologica che in tempi piuttosto brevi si riduce molto facciamo un esempio una specie che vive solo su un'isola come ce ne sono tante degli endemismi un uragano uno sconvolgimento ecologico devasta l'ambiente ne rimangono poche dieci coppie quindici coppie quello è un collo di bottiglia e ha un effetto due effetti importanti uno sbilancia tanto le varianti genetiche perché siccome sopravvivono a caso dieci coppie può darsi che in quelle dieci coppie ci sia una variante genetica molto più diffusa che non in una popolazione molto grande è un effetto statistico potete fare anche con le carte da gioco se tu hai le carte da gioco con tutti i semi le giri e a caso ne peschi dieci vedrete che i semi sono tutti sbilanciati tra di loro è un effetto statistico che succede anche con i geni poi l'altro effetto potete fare anche questo con le carte se tu hai un mazzo molto grande e a caso ne tiri fuori dieci vedrai che magari un seme non c'è quindi la variabilità genetica si perde diminuisce sono tutti effetti casuali statistici che però per noi sono importantissimi perché se tu vedi per esempio una popolazione che ha una variabilità genetica molto bassa puoi prevedere che abbia avuto un collo di bottiglia in passato un altro collo di bottiglia che nella specie umana è stato molto importante è quando hai una colonizzazione per esempio pensate alla storia pazzesca non so dei boeri che sono andati in Sudafrica e hanno poi dato origine a una popolazione di dominatori in Sudafrica sono partiti tutti da 24 famiglie quindi tutta quella popolazione lì venne fuori solo da 24 famiglie infatti hanno delle malattie genetiche totalmente sproporzionate che hanno soltanto loro quelli sono tutti colli di bottiglia un'altra storia pazzesca tristissima gli ebrei aschenaziti in una parte della loro storia durante le persecuzioni quelle del XVI secolo sono ridotti così tanto da essere arrivati praticamente a poche donne che hanno poi dato origine a tutta la generazione successiva hanno avuto un collo di bottiglia tremendo pazzesco quindi vedi che nei casi umani sono molto molto diversi perché è così importante per noi perché noi sappiamo che quando siamo usciti dall'Africa eravamo pochi e quindi è un po' così tu devi immaginarti 70.000 persone 60.000 persone immaginatevi Brescia quanti sono un pezzo di Brescia piccolo gruppo esce fuori dall'Africa quello è un collo di bottiglia no? la cosa che abbiamo scoperto che è quella che per la quale Cavalli Sforza avrebbe sicuramente meritato il premio Nobel è che poi si è scoperto che da lì ci sono stati tanti colli di bottiglia e le popolazioni umane ci sono distribuite in tutto il mondo con questi colli di bottiglia queste colonizzazioni a partire da piccoli gruppi questo è il motivo per cui una cosa che sembra quasi incredibile la variabilità genetica umana se tu parti da Addis Abeba in Africa e ti allontani dall'Africa diminuisce progressivamente e il minimo ce l'hai all'esatto opposto in Australia e in Sud America cioè hai gli antipodi rispetto a questa migrazione che è un risultato bellissimo è lo strumento che usiamo noi anche a Padova quando tu riesci a calibrare questo orologio noi riusciamo per esempio adesso abbiamo fatto un lavoro che è appena uscito il mese scorso su una rivista grossa Genome Biology Evolution siamo riusciti con questo sistema a scoprire che dopo che sono usciti dall'Africa i nostri antenati si sono fermati per un po' nella zona Medio Oriente Iran e poi hanno preso tre direzioni una è andata verso l'Estremo Oriente una verso il Caucaso e molto tempo dopo un'altra in Europa e noi europei veniamo fuori tutti da quella migrazione lì questo lo puoi scoprire usando il metodo della deriva genetica che usiamo noi e poi la cosa bella che è molto affascinante noi non ci fermiamo al dato genetico quando abbiamo il dato genetico chiamiamo gli archeologi e diciamo senti a noi risulterebbe questo spostamento di popolazioni e loro vanno a vedere se anche a livello archeologico corrisponde anche a livello linguistico eccetera eccetera quindi è molto interdisciplinare a me piacerebbe se lei riuscisse a illuminarmi un po' su una cosa che mi sta affascinando molto che viene definita epigenetica se è sempre almeno io ho sempre immaginato il corredo genetico come una struttura che obbligasse verso una certa un certo destino mentre con l'epigenetica sembra che l'ambiente il microbioma tutto quello che ci circonda influisca l'espressione della nostra genetica in bene o in male in senso non filosofico ma in senso pratico sulla nostra sul nostro benessere psicofisico ecco ho intuito questo ma ne so pochissimo è così si si è giustissimo quello che dice è corretto è un grandissimo cambiamento nel nostro campo di studi e io per dirle in modo semplice farci capire da tutti l'epigenetica cosa vuol dire vuol dire che i geni hanno fuori dalla loro sequenza genetica dei meccanismi chimici che noi chiamiamo marcatori epigenetici che servono per regolarli cioè per esempio un gene può essere attivato un po' di più o un po' di meno oppure può essere spento un interruttore o riattivato oppure può spegnersi nel corso della vita io per esempio a un certo punto della mia vita ho smesso di digerire il latte prima lo digerivo benissimo non può essere un cambiamento genetico la mia sequenza è sempre la stessa è che mi sia spento il gene che mi fa digerire quello che produce lattasi mi fa digerire lattosio quello è un cambiamento epigenetico no? ma lo capite semplicemente del fatto quando noi nasciamo siamo fatti di cellule che hanno tutte lo stesso DNA ma che poi si diversi quando siamo fecondati nostra cellula fecondata poi si suddivide in cellule del muscolo dei nervi giusto? i neuroni hanno tutte lo stesso DNA ma sono cellule molto diverse com'è possibile? è l'epigenetica che le regola diversamente differenziamento cellulare perché è importante l'epigenetica? importantissima perché questi marcatori sono sensibili all'ambiente quindi diventano una sorta di punto di connessione tra la sequenza genetica e l'ambiente quindi certi inquinanti certi fattori ambientali lo stress tantissimi fattori di contesto possono agire sui geni tramite l'epigenetica durante il corso della vita e anche in generale malattie per esempio in ambito oncologico sappiamo che tantissimi tumori hanno un'attivazione non genetica ma epigenetica tu magari non hai la predisposizione genetica ma un cambiamento epigenetico contribuisce a un inquinamento ambientale eccetera eccetera questo è il punto c'è un ulteriore elemento importante parentesi ho visto che come al solito sono già uscite cose tipo l'epigenetica curarsi con un abbraccio no ecco no non si guarisce da gravi malattie con un abbraccio e allora l'epigenetica lavora e ti guarisce purtroppo non è così ok sempre perché poi diventa una moda no e poi si esagera però è molto importante appunto perché è sensibile all'ambiente in più abbiamo scoperto e questo ci ha sorpreso molto che in alcuni casi speciali una caratteristica epigenetica che tu hai acquisito durante la tua vita può passare ai tuoi figli e questo è un po' la mark se ci pensi no nel senso che un carattere acquisito lo passi ai figli nelle piante succede negli animali è molto raro nel caso umano ancora non abbiamo prove certe che possa succedere però abbiamo tanti indizi sul fatto che possa succedere e quindi per esempio uno stress un trauma vissuto dai genitori attraverso dei meccanismi che non conoscevamo che si chiamano RNA micro può incidersi nelle cedule sessuali e passare ai figli questo è stato notato nei topi nei topini un esperimento bellissimo lo racconto perché è molto elegante papà e mamma topini ok tengono separati i maschi e le femmine quindi i maschi e le femmine non si vedono mai ok a quella generazione al papà e la mamma fanno provare un'esperienza che è molto semplice per esempio associare un'esperienza negativa un cibo cattivo con un odore ok che i topi riconoscono subito imparano nel corso della loro vita che quando sentono quell'odore succede qualcosa di spiacevole è un rinforzo positivo fine tu prendi gli spermatozoi dei maschietti fecondi artificialmente fecondi con questi spermatozoi le cellule uova le femmine e ingravidi le femmine nascono dei topini gli fai sentire l'odore si spaventano che quando la prima volta che è uscito questo risultato mi hanno detto ma com'è possibile e quello ci ha creato e poi abbiamo capito che praticamente quella forte esperienza nei genitori in qualche modo passa attraverso le cellule sessuali nei figli la cosa interessante però è che dopo due o tre generazioni sparisce quindi è una sorta di ereditarietà debole che poi va via e se ci pensate sul piano darwiniano si capisce perché è così importante l'epigenetica perché se tu mi spiego con un esempio se tu sei un animale o una pianta che vive in un ambiente molto instabile che cambia continuamente ti conviene lavorare di epigenetica perché è molto più veloce non devi aspettare la mutazione genetica che poi si diffonde di generazione in generazione con l'epigenetica sei molto più flessibile ti puoi adattare molto più velocemente quindi ha un forte valore adattativo questa è la grande novità diciamo dell'epigenetica oggi che studiamo tantissimo non io ma mi ha studiata tanto i sopravvissuti dell'olocausto che non raccontavano il dolore poi i nipoti avevano dei traumi di cui non capivano l'origine perché appunto quello è un caso l'altro caso famoso è quello del Rwanda dopo il genocidio in Rwanda per due generazioni si vedono degli effetti biologici sui figli e sui nipoti il problema è che non riusciamo a trovare il marcatore epigenetico che le cause però è molto plausibile che sia un caso di questo tipo esattamente ovviamente devi escludere in quel caso il fatto che la mamma abbia avuto il trauma durante la gravidanza quella è un'altra storia ancora quello succede ma lo sappiamo già quello buonasera lei parla di imperfezione pertanto quale sarebbe un modello di perfezione eh sì giusto non ho avuto tempo di andare anche su quel piano lì ma è chiaro imperfezione è un concetto negativo è la negazione della perfezione noi di solito in ambito evolutivo biologico abbiamo due modelli di perfezione quella estetica è quella funzionale quella funzionale si capisce facilmente è una struttura biologica che assolve in modo ottimale ha una funzione ok e noi facciamo sempre l'esempio tra l'altro ma triste ma il covid SARS-CoV-2 è un paradigma di perfezione biologica cioè è di un'efficienza pazzesca non ha niente più di quello che gli serve è una macchina biologica noi diciamo è un singolo firamento di RNA circondato da una capsula di proteine fine ridondanza zero e infatti purtroppo fa benissimo tristemente il suo mestiere anche se è molto prevedibile però muta e quindi poi sviluppa varianti quello è un esempio se vuoi di una perfezione funzionale oppure estetica che siamo una cosa strana ma vuol dire praticamente per noi una perfezione nella struttura organizzativa di un animale quindi come le parti di un organismo sono relazionate tra di loro e quindi ci sono animali che hanno uno standard diciamo di organizzazione ecco maggiore o minore sono tutti due valori usati storicamente che io cerco di far vedere nel libro però che hanno anche dei disvalori molto importanti ok quindi il virus certo fa benissimo il suo mestiere ma appunto non nascono Shakespeare Leonardo da Vinci nel mondo dei virus eccetera eccetera e poi è prevedibile e se fossimo stati un po' più saggi avremmo potuto prevederlo anche prima e prendere le contromisure questo è il paradigma di perfezione diciamo che usiamo normalmente per quanto riguarda la ridondanza dei geni che prima accennato sui vegetali è possibile comunque che ci sia anche una ridondanza sia dal punto di vista di DNA dovuto al fatto che le piante essendo organismi sessili comunque hanno una maggiore necessità di adattare di comunque acclimatarsi a stimoli ambientali anche dal punto di vista epigenetico sì 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 assolutamente però diciamo il fatto di essere sessili implica sì che la parte codificante è un po' più larga però se tu guardi la percentuale di ridondanza genetica è altissima è paragonabile alla nostra proprio perché sopperendo molto con l'epigenetica mi spiego le piante usano tantissimo l'epigenetica voi potete avere delle piante che a parità di genetica hanno dei fenotipi cioè delle caratteristiche esteriori completamente diverse se c'è stata una stagione siccitosa sono piante di un certo tipo se piove sono piante di un altro tipo ma è la stessa pianta con la stessa genetica quella è tutta epigenetica quindi le piante usano tantissimo l'epigenetica proprio per questo non hai tanto bisogno di geni codificanti capisci e l'altra cosa interessante che ho dimenticato di dire ma che insomma è legata a questo la ridondanza del DNA nelle piante così come negli animali è importante perché il DNA ha inventato miliardi di anni fa la coppia di backup avete presente la coppia di backup del computer no? voi se volete essere sicuri i vostri dati vi conviene salvare una coppia no? e ogni tanto aggiornarla la stessa cosa succede nel DNA perché tu hai se un gene fa una cosa molto importante per la tua sopravvivenza e una mutazione agisce proprio su quello lì tu sei finito allora cosa succede? nei geni molto importanti si fanno tante coppie diverse che non sono attive ok? cosa succede però? queste coppie possono sviluppare mutazioni liberamente perché non sono impegnate nel compito di codifica e molte volte succede che in queste coppie una mutazione produce una variante genetica più efficiente dell'originale e quindi lavorando con le coppie di backup si sviluppa ancora una volta innovazione quindi le coppie di backup non ti servono avere dieci coppie di backup però quando poi hai le mutazioni sulla coppie di backup sì che ti serve puoi usare quella coppia lì come nuovo gene o come gene più adattativo quindi vedi che anche questo è un altro esempio del valore della ridondanza per poter evolvere se invece hai soltanto proprio solo quello che ti serve non hai margini di cambiamento questo è il punto iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video rinascimento culturale ti ringrazia